Sense Media. Ascolta i tuoi sensi. Quad è il più evoluto sistema di controllo e gestione della comunicazione sensoriale nel punto vendita. Sincronizza quattro media per la comunicazione in store. Radio, video, luci e profumazioni. Per sorprendenti effetti esperienziali. Per un'efficacia superiore della comunicazione in store. E per il massimo impatto scenografico della comunicazione del punto vendita. Quad by Sense Media. Totale controllo dei sensi per lo shopping.